Andiamo in libreria? Oggi stiamo camminando in libreria. Raccogli tutti i libri che dobbiamo restituire. Puoi scegliere cinque libri da prendere. Si prega di fare silenzio. Non correre nella libreria. La bibliotecaria sta raccontando una storia. È ora di andare via. Hai i libri che devi portare a casa? Cerca la tua carta socio della libreria. Stiamo controllando i nostri libri per portarli via. La bibliotecaria sta raccontando una biblioteca. La bibliotecaria sta raccontando una lingua 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 lingua. Get the full unit and more at homeschoollanguages.com